A Giulianova il Comitato di Quartiera Annunziata vuole portare all'attenzione la situazione riguardante il letto del fiume Tordino nelle vicinanze del ponte ciclopedonale che collega Giulianova al Roseto degli Abruzzi, in quanto sono cresciuti diversi arbusti e piante di grosse dimensioni che potrebbero arrecare i danni in un'eventuale piena del fiume. Il Comitato di Quartiera Annunziata ha inviato una richiesta di controllo del letto del fiume Tordino indirizzata agli enti competenti, e cioè il comune di Roseto e di Giulianova, i due comuni confinanti con il fiume, il Genio Civile e la provincia di Teramo, in quanto si è visto nell'ultimo periodo una crescita esponenziale degli arbusti e delle piante, soprattutto nelle vicinanze del ponte in legno che, ricordiamo, è stato recentemente restaurato e rinnovato. Il Comitato chiede che sia fatto un tempestivo sopra luogo per verificare l'eventuale pericolosità perché le piante potrebbero ostruire il passaggio delle acque sotto il ponte. Noi chiediamo che questi enti controllino l'eventuale pericolosità perché, diciamolo, che queste piante potrebbero ostruire il passaggio delle acque piovane oppure dell'acqua di piena del fiume Tordino e prendere i dovuti provvedimenti. Il Comitato di Quartiera Annunziata quindi si augura un tempestivo controllo da parte degli enti per la messa in sicurezza del letto del fiume Tordino.